La tradizione, i sapori, il profumo dei prodotti genuini, al Panificio di Cristo di Gino Ribecco la qualità dei prodotti dal produttore al consumatore. La particolarità del forno a legna si concreta con l'eccellenza delle materie prime adoperate, farina di grano duro con l'impasto del lievito madre proprio come facevano i nostri avi. Panificio di Cristo, la secolare esperienza tramandata di generazione in generazione da maestri fornai, produce tutti i tipi di pane e pizza secondo le più antiche tradizioni di panificazione. Durante la notte quando tutti dormono c'è qualcuno che lavora per noi, una vera maratona notturna, prodotti artigianali senza conservanti per riscoprire i gusti di una volta. Il pane, da sempre sinonimo di cibo in senso assoluto, la cui preparazione si è evoluta fino a diventare arte, la sana fragranza del buon pane e di tutti gli altri prodotti firmati di Cristo. Di Cristo è sinonimo di bontà e qualità.